Non camminiamo, non camminiamo, rosso, 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 vamba, vamba, cos'è quella cosa lì? Tanti tocchi, la palla in piedi, stanno sempre molto vicino, continuiamo a girare all'esterno intanto ragazzi. Palla vicino al piede Augusto, non può sempre tenere la palla o meno di distanza, la palla deve sempre stare attaccata a piede, più vicino, più vicino, sulle mani da terra ragazzi, via, più predo, bravo, vediamo, vede, ehi, si è finito, esco dal quadrato, dai Edi, morire Franci, dai vamba, adesso cambiamo senso, andiamo in senso orario, Dai stop, pianta del piede, adesso, sopra il pallone, di qua, vai Dani, fai tu, dentro al ritmo, tiriamo un attimo, dai, senso orario, via, su da terra, su da terra. Ora, esercizio, ancora, il ritmo, viva, va, arancio, giro, tutto il destino, giro, gioca, giro, giro, veloci, veloci, ria, gira, ti fa, 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 ti fa.